Stavattina mi sono proprio fissato. Parlami di Kant. Che so, le opere o il contesto storico? Te l'avevo detto io! Basta, silenzio! Zittili! Su, forza! Dunque, no, Immanuel Kant è un filosofo e la sua opera proprio... Immanuel Kant è un filosofo e la sua opera più importante e centrale del suo pensiero è... la critica della ragion pura. Eh? La critica della ragion pura. Perché poi lui ha scritto anche la ragion pratica. Però quella proprio importante, vera, è la ragion pura. 9 a 3! Vai! Sono ancora un bel giocatorino, eh? È perché devo giocare di fino. È la potenza quella che conta oggi. Devi spaccà! Sei troppo moscio, dai! È duro! Quello che hai i gambe, stanno... Dure! Dure! E che giochi vecchio! Pure quando giocavo a tennis. Smurzate, volete! Ma chi sei, panatta?